Eccoci qua, i paskers, gli artisti di strada! E capimo, oggi dovete trovarci una bellissima bambina! Andiamo a vederla volando, che bella bambina! Quella carina è! E sorride sempre, che bello, che bello! Piange, piange! E me lo vede, è una bulla pulata! Capimo, capimo! Non so io che cosa vuole la bambina! E cosa vuole? Nel padre! Padre, si è! Gli artisti di strada! Basta un casalingo! Moregnosa, infatti! Rovino per ballo latinoamericano! Va bene così! Grazie, le faremo sapere! Danza classica! Che classica e adulta! Contenta tu? Ballo di gruppo! Ballo di gruppo! Con caduta singola! Replay! Un attore si esercita per un musical! Un attore si esercita per un musical! Oh, mi ha preso la lettera! Oh, mi ha preso la lettera! Prossimamente nei miei ori cinema, l'ultima crocchetta! Riuscirà a sopravvivere questo caniaceo schifoso? Prossimamente! Oh, le insulti! E persine i fili del film! E poi, mi conosciuto di niente! Sto film, che è un film verità! Ecco! Vediamo un po'. Aspetta un attimo! E questo è una pazzola! E' il padrone mio che dà proprio sui verdi, sto tanto bene qui da solo. E' il padrone mio che dà un pasticchio, guarda che gli facciate, guarda un po', piccate questa, basta, e questa niente, dove si vede quando ho schiacciato una gabbana. Sì, sono un cane veneto, mi piace di bere. Oh, io tiro fuori l'igua, ma la pina non c'è l'igua. Oh, vostra vita, non c'è l'anima buona che mi dà la nonna. Oh, lo canto, non di Venezia. Oh, lo canto, lo canto. E ora il giardinaggio. Questo signore deve tagliare il ramo. Ma resta a peso. Qui si utilizza un fertilizzante con ingredienti segreti. Oh, che resti un segreto. Qui c'è un alveare da togliere. Ci pensa lui. Ma qualcuno non è d'accordo. Attenzione adesso. Due esperti giardinieri devono eliminare questa pianta malata. E' ancora in piedi. Ma non cade. Che ponta. Questo era decisamente del ramo. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Una festa col botto, eh. Da rivedere assolutamente. Che bella tua invitante. Mi ne voglia di... Di tuffarsi. Sì, la bella, non mi prendete la lettera. Il momento è solenne. La spillatura della bonte. Vai, ancora una. Vai, vai. Questa birra è così forte che ha rotto il martello. Questi capoccioni vogliono aprire una bottiglia di vino. Eh, ma si vede. Non sono del ramo. Lui vuole aprire la sua bottiglia con un metodo un po' rischioso. Ma come scena è brutta. Ma almeno nessuno è rimasto setto. Momenti da brrrrrito. Un oggetto non identificato. per fortuna tutto bene io posso aggiettela signora per un velo signora se mi vuoi di attraversare sulle strisce che botta, vediamo da un'altra angolazione beh questa è proprio una botta di un'altra angolazione 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 Eh, mi rende difficile, hai visto? Che succede? C'è un adesso di carriera. Un po' di sano sport, l'atletica. Che incidente! Ci sarà un testimone? Il baseball. Mamma che botta! Il palleggio. Andiamo sullo sport più tranquillo, il biglietto. Vai avanti, l'ultimo pari ciò. Il golf. Ha fatto un pessimo swim, ma un ottimo swimming. Spaglierò, ma secondo me succede qualcosa a quel signor a piedi. Eccolo! Lo sapevo, io c'ho il bernottolo per me padre. Con la sbarra alzata, si passa. Con la sbarra abbassata, no. Mol ha imparato pure lui. Anche questo non ha ben chiaro come funziona il meccanismo. Anzi, adesso il meccanismo proprio non funziona più. Si mette prima il biglietto. Capoccione! A che serve il casco in moto? Ce lo spieghi al nostro amico. Ecco! Divertiamoci con della sana informazione. A te la linea! Ha perso la batteria nel microfono. Scusa, di questo passo la dono tizia diventerà vecchia. Signora Moreno, sei in onda? Se ne è accorta? Ad avere problemi qua un cameraman di Las Vegas. Oh, si è giocato tutta la carriera. Che meraviglio, questo pantalone! Che si prende tutta la scena! Prodista sportivo! Mica tanto sportivo! Bella figura! Acquascooter! 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 Prima qualche bella foto. E poi... E poi una bella figuraccia. Type surf! Ha perso la terra! E ha fatto il bagno! Arrivano a trueta! Io direi che come prestazione è stato un buco nell'acqua. Trampolino! La ragazza mi sa che ti dimmi dimagrire, eh? Questa ragazza si prepara ad un'evoluzione indimenticabile. Lui non se la dimentica, di sicuro. Tre uomini in barca! E ora... Tre uomini in acqua! Un po' di tipi atletici! Non ha retto l'emozione! Un po' di ginnastica! Ai ai ai! Ed ora un po' di tappeto! Un po' elastico, direi! Un po' di tappeto! Pausa in un piccio! Mi sa che sarà una pausa molto lunga! Baschetta! Caduta da cestinato! Ci prova il collega! Il risultato travolgente. Iè cagnolino, ma perché sei arrabbiato? Ma come perché? Ieri ho giocato su te 10.000 euro, ho perso tutto! Iè va bene, cosa vuoi che sia? Ma no, dove stiamo andando? Ma è logico, ti porto al macellulo, eh? Iè mia zaga, io te lo do i soldi! Eh, ho già deciso, sei morto direttamente dal macellaro! Io schifirei e finisco! Eh, quelli della banca, mo m'hanno proprio stufato! Ma hanno aumentato un'altra volta il tasso! Libero amico! Eh, e poi qualche volta è diventato grosso! Uè, che lindo! Eh, sono fuoco, eh, questi gli è stati, non lo so che lo so, non è pure! Dobbiamo stare vicini vicini, io, candidata, a cena, a mangiare le orecchiette! E' un'altra volta che sto facendo le orecchiette, sono buona! Eh, questa è una lorchiette, però, le orecchiette è mia! E' un'altra volta che voi prendete! E' un'altra volta che voi prendete!